Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Alessio Pecorelli è il nuovo volto della nuova edizione di Uomini e Donne. Con 31 anni e un passato da imprenditore di successo nel settore della ristorazione, Alessio è il primo tronista NIP della stagione. Di origini romane, è cresciuto a Santa Marinella, dove ha costruito da solo la sua carriera, partendo da ex militare fino a diventare un imprenditore affermato. Lo descrivono come un uomo dalle idee chiare e dalla forte determinazione. Sono nato leader e leader morirò, afferma con sicurezza. Alessio non è solo un imprenditore di successo, ma anche un uomo che dà grande valore alla famiglia. Per me la famiglia è sacra, racconta. Sua madre lo aiuta con la contabilità del ristorante, mentre suo padre gestisce un'officina a Civitavecchia e suo fratello è ingegnere a Milano. La sua famiglia ha attraversato momenti difficili, soprattutto dopo la perdita dei nonni e dello zio in un breve lasso di tempo, eventi che hanno segnato profondamente la vita di Alessio. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto è prezioso. La vita sentimentale di Alessio è stata turbolenta. Dopo una relazione importante, durata due anni e mezzo, il giovane romano non è riuscito a legarsi a nessun'altra persona. Tuttavia, è aperto a nuove emozioni e non esclude la possibilità di diventare padre in futuro. Alessio è padrino dei figli di molti amici e non nasconde il desiderio di formare una famiglia tutta sua. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video. Grazie. Grazie.